Oh, teoxys. Teoxys, dodge down, invece di fare gc side, fa direttamente gc side, sic, non gliela frega nulla. Vuole il flex, lui. Oh, attento! Vuole il flex! Oddio! No, no, no! È salito? No, non è salito. E parte il taunt. Mamma mia, raga! Ma come ancora grabba il volo? Don't mind me, fai tu, prenditi, butti... Impazzito! Mamma mia, somebody click that, oh shit! Hey, si t'es aoxys.